Allora, questo campionato di Alassio per noi è stato, direi, un discreto successo perché era l'esordio nella classe e quindi sapevamo assolutamente che livello potevamo posizionarci. Direi che con un primo, un quarto, un quinto e purtroppo una bandiera nera non ci si può lamentare. La bandiera nera non la abbiamo potuto scartare perché le prove non sono state abbastanza per lo scarto se no saremmo saliti belli in alto in classifica. Il settimo non è certo da buttare via.